Un mondo in comune, partiamo da qui. L'idea di mondo, la parola mondo non è casuale, io la assumo in un doppio significato piuttosto preciso. La parola mondo, lo dico subito, è uno dei concetti meno frequentati stranamente dalla filosofia, è uno dei concetti forse più oscuri, più magmatici. Quindi la mia scelta è quella di scegliere questa parola con due accezioni piuttosto precise e diverse, e per certi versi complementari. Una è il mondo come pianeta, come terra, per prendere un'espressione molto cara a Dan Arendt, la quale peraltro parla di mondo fondamentalmente, più che di terra, e l'altra è mondo come mondo, di nuovo un concetto arentiano, che poi è stato ripreso da altri filosofi contemporanei, come per esempio Jean-Luc Nancy, eccetera. Ma adesso non voglio annoiarvi troppo con citazioni, però questo punto di partenza è importante. Quindi diciamo una seconda accezione di mondo come mondo in comune, per l'appunto, come insieme, come cum, come stare insieme, come coesistenza. Entrambe queste accezioni di mondo sono assolutamente rilevanti, dal mio punto di vista, per capire le trasformazioni della cosiddetta età globale. Altro problema grosso, cioè io qui butto lì in maniera forse un po' troppo disinvolta, e forse un po' troppo ardita, dei concetti pesantissimi, però se non si fa in occasioni come queste, non si fa mai. E comunque posso assicurarvi che sono sufficientemente meditati, poi possiamo non essere d'accordo, ma sono sufficientemente meditati. Allora, due accezioni pertinenti in quella che possiamo definire età globale, e qui naturalmente si spalanca un abisso, perché che cosa vuol dire età globale? Beh, intanto non è la stessa cosa di globalizzazione, globalizzazione, sapete bene, è un termine assolutamente abusato, usato e abusato, diciamo, vuol dire un'infinità di cose, in realtà però prevalentemente viene usato per intendere, diciamo, il processo economico della globalizzazione, cioè il mercato planetario, il mercato globale. Mi fermo solo un attimo per avere un orologio in mezzo, in modo che lo controllo anch'io e riesco a seguire un po' senza sforare troppo. Ecco, quindi diciamo, globalizzazione, possiamo usarlo in molti modi, possiamo usare anche il termine globalizzazione per riferirci a dei processi che non sono solo economici, ma sono anche antropologici, culturali, sociali, eccetera, ma io preferisco dire età globale, e non l'ho inventato io questo termine, perché questo mi permette di marcare la differenza che io ritengo forte, decisiva, tra la nostra contemporaneità, quindi la contemporaneità dell'età globale, e la modernità, la modernità quella classica, quella che parte, diciamo, dal 600 e arriva fino al 900, almeno fino alla prima metà del 900. In altre parole, abbiamo bisogno di rivedere i nostri concetti, abbiamo bisogno di rimettere in campo un tessuto interpretativo nuovo, perché siamo di fronte a dei cambiamenti epocali, siamo di fronte a dei cambiamenti radicali, che siamo ancora ben lungi da riuscire a cogliere pienamente, e per i quali non abbiamo ancora sufficientemente gli strumenti concettuali adatti per interpretarli e per leggerli, e ancora meno per, diciamo, dare delle risposte sul piano risolutivo, sul piano normativo. Quindi è uno work in progress. Per me lavorare su questi temi, intanto è stato un lavoro lungo e tormentoso, e un lavoro particolarmente disagevole perché lavorare sull'attualità è estremamente, oggi estremamente difficile, perché è un'attualità continuamente in movimento, piena di sorprese, piena di trappole. Dunque, è uno work in progress, il tentativo è di cominciare a mettere in campo alcune problematiche a, diciamo, definire delle priorità, scegliere dei percorsi, e così via. A mio parere, fatta questa premessa, ci sono oggi almeno due sfide fondamentali, le due sfide fondamentali dell'età globale, che sono il destino del mondo, inteso come pianeta, il futuro del mondo, una parola sempre più, adesso sta entrando sempre più nel lessico, diciamo, contemporaneo e mass mediale, speriamo di no, perché poi quando le parole entrano troppo nel lessico mass mediale si stravolgono, il futuro del mondo e del pianeta, e la relazione con l'altro. Il primo, la prima sfida, è assolutamente nuova, assolutamente nuova, nel senso che, come dire, fino alla seconda metà del Novecento non bisognava preoccuparsi del futuro del mondo. La grandissima intuizione di un filosofo non sufficientemente riconosciuto come Hans Jonas nella seconda metà del Novecento è stata esattamente questa, quella di capire che per la prima volta nella storia dell'umanità il mondo non era più dato, il futuro del mondo non era più dato, perché il mondo è esposto appunto a delle sfide epocali e radicali, adesso verrò un attimino su questo, che ne mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza, la stessa possibile esistenza. Dunque il tema del futuro assume uno spessore filosofico, concettuale, che sia pur presente in epoche precedenti, la modernità nasce attraverso il concetto di futuro. La modernità inaugurata da un filosofo come Thomas Hobbes nasce con un'attenzione forte sul futuro, per la prima volta ci si comincia a preoccupare del futuro. della necessità di prevedere, progettare, progredire, che è tutta la grande tematica del moderno. Ecco, però adesso le cose sono cambiate nel senso che questa è la nostra sfida, una delle nostre sfide fondamentali. L'altra, adesso naturalmente vengo più nei dettagli, l'altra è il rapporto con l'altro. Il rapporto con l'altro perché i processi di globalizzazione dell'età globale ci mette di fronte ad un mutamento radicale dell'idea di altro, perché l'altro è il diverso. Allora, vorrei adesso riprendere questi due percorsi, prima l'uno e poi l'altro, per tentare di entrare un pochino di più nel merito della questione. Un'altra premessa, si fa per dire, perché poi insomma siamo già in media stress importante, è quella che io chiamo l'ambivalenza della globalizzazione, che in qualche modo poi fa riferimento a tutta una serie di interpretazioni e di diagnosi con le quali sono assolutamente d'accordo, se volete, di tipo più sociologico, che sostengono che appunto la globalizzazione è un global local. L'avrete già sentita questa coppia, anche questa comincia un pochino ad entrare nel lessico mass mediale, cioè abbiamo da un lato processi di sconfinamento, omologazione, universalizzazione, mercato mondiale, uniformità, eccetera, e dall'altro invece la rinascita, anche molto forte, di realtà locali, circoscritte, definite, che sembrano essere in qualche modo proprio una risposta ai processi di indifferenziazione del globale, quindi globale e locale coesistono insieme, poi vedremo un pochino meglio esattamente che cosa vuol dire quello. Quello che voglio dire subito è che io, partendo da questa coppia, se volete appunto più di tipo sociologico, ho pensato di poter individuare le due patologie corrispondenti, corrispondenti a questa coppia che individua la realtà contemporanea, e cioè quelle che io chiamo da un lato un individualismo illimitato e dall'altro un comunitarismo endogamico. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il configurarsi di una realtà globale, planetaria, omologata, indifferenziata e così via, crea le premesse per la radicalizzazione di quel fenomeno assolutamente moderno che è la nascita dell'individualismo, che è il configurarsi di una dimensione individualistica diciamo strutturale, che va a strutturare poi la società e il legame sociale. Voglio dire con questo che da un lato le seduzioni e le promesse di un mercato planetario, di un consumo planetario e così via, di una tecnologia senza limiti consentono il radicalizzarsi dell'individualismo e il suo orientarsi in forme sempre più patologiche, da un lato un'onnipotenza dell'io, dall'altro però anche una radicale insicurezza di fronte appunto allo sconfinamento, di fronte alla perdita di punti di riferimento, di fronte alle omologazioni culturali. Contemporaneamente appunto come risvolto speculare di tutto questo che è diciamo poi la manifestazione locale dell'individualismo globale, c'è una rinascita di tensione comunitaria, un desiderio di comunità, un ritorno alla comunità che però per l'appunto si caratterizza almeno prevalentemente in modo distruttivo, in modo fusionale, in modo reattivo, in modo esclusivo. Le comunità etniche, le comunità religiose, le comunità che si formano diciamo contro qualcun altro anche all'interno delle nostre civiltà, delle nostre società occidentali, non scambiate tutto questo per un'adesione alla formula dello scontro di civiltà, io la ritengo che avrete penso sentito più volte, io la ritengo una formula assolutamente deleteria, non c'è uno scontro di civiltà, o meglio, allora se dobbiamo usare questa formula dobbiamo dire che questo scontro di civiltà si riproduce all'interno di ogni civiltà, perché appunto abbiamo fenomeni individualistici in Occidente e presenza di comunità regressive in Occidente e viceversa, adesso non voglio dilungarmi su questo, voglio semplicemente dire che siamo in presenza di questa forbice schizofrenica, l'età globale ci presenta naturalmente per quanto riguarda i suoi processi patologici non è tutto così ovviamente, ma io sono una filosofa sociale quindi sono particolarmente attenta alle patologie del sociale, alle degenerazioni del sociale, allora io credo che oggi siamo in presenza appunto di questa schizofrenia fondamentale tra una sorta di sfilacciamento, disgregazione e indifferenziazione omologante e dall'altro invece di e quindi anche di indifferenza, di atomismo, un individualismo che diventa sempre più atomistico, indifferente, distante e dall'altro invece un bisogno di fusionalità, di come dire stringere il legame di riconoscersi in un simile che ovviamente esclude tutto ciò che è diverso. Allora se questo è vero se questo è vero ed è certo non è un quadro molto incoraggiante quello che io credo di poter sostenere è che insieme a questo quindi insieme al crearsi diciamo di una dimensione patologicamente schizofrenica l'età globale apre anche delle chance grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti